Grazie a tutti! E buon'oltre! Grazie! Era quello che cercavamo per il nostro evento aziendale, era proprio quello che volevamo comunicare alla nostra rete vendita e a tutti i nostri partner, veramente eccezionale. Sorprendente, non ce l'aspettavamo, sapevamo che era più che bravo, ma non a questi livelli, veramente sorprendente. Lo spettacolo è stato davvero entusiasmante, è stato veramente bello, molto interessante sicuramente per le vendite, c'è da prendere spunto anche per la propria vita personale e per portare avanti i propri obiettivi. Spero di iniziare anche io un percorso grazie a quello che ho visto stasera.